La firma non è certo quella che speravano di poter apporre sul progetto del tanto atteso collegamento Bassano-Padova. Anzi, è l'ennesimo atto che testimonia la preoccupazione degli undici sindaci dell'Alta Padovana, che da anni battagliano per vedere realizzata la tanto attesa arteria che dovrebbe collegare i loro comuni al capoluogo da una parte e alla nuova pedemontana dall'altra. Non abbiamo mai avuto alcun tipo di progettazione, abbiamo dato mandato, e questo grazie a Camera di Commercio di Interporto, per fare uno studio di fattibilità assieme all'università, per capire quale può essere il percorso migliore per questa viabilità fondamentale. Il rischio, sostengono gli amministratori, è che una volta entrata a regime la pedemontana, l'area dell'Alta Padovana resti completamente isolata. Nel momento in cui viene a mancare una di queste infrastrutture in un territorio, il territorio è destinato ad impoverirsi, è destinato quindi a perdere appeal economico e quindi ad avere problemi in un futuro. Ne va del futuro delle nostre generazioni, quindi non possiamo desimerci come sindaci da prendere in mano questa situazione, perché abbiamo già, ci è già stata segnalata una perdita di pillo nelle nostre zone che bisogna rilanciare. Noi non siamo inferiori né a Campo San Pierese né al Vicentino che viceversa da noi stanno crescendo. Bisognava individuare già il territorio fin da subito e dire qua facciamo la pedemontana e queste sono le bretelle, questi signori è la strada, perché un pezzo solo e non mancando degli allacci mi sembra un'opera a metà. Sono oltre 40.000 le auto che quotidianamente percorrono la Val Sugana, altre tante quelle che viaggiano lungo la Contarina. Pensare a nuovi collegamenti in nord-sud ma anche ad una tratta est-ovest che unisca al Campo San Pierese e alla zona di Carmignano è una questione che non si può più rinviare. Il problema non è solo il traffico, in ballo ci sono anche la sicurezza stradale e il tanto temuto inquinamento da PM10. Impossibile infatti fermare il traffico sulla Val Sugana anche se il primo cittadino di San Giorgio in Bosco lancia una provocazione. Chiudo anch'io la statale, questo non è impensabile, però era per far capire che a San Giorgio in Bosco ormai è diventata insostenibile colonne, colonne, colonne di auto che producono il PM10 alle stelle, insomma questa è la realtà.